ok ragazzi missione riproduci l'ultima nota audio tornare alla razza ci troviamo esattamente qui questa è la posizione esatta dove trovare l'oggetto in questione quindi questa è la posizione la troviamo sopra il muretto quindi andiamo a riprodurla dal personaggio interagirci sempre tramite l'icona l'aguglia finchè non accettare gli incarichi e la missione è bella che è completata ragazzi bella bella